Senti Antonino, dai facciamo due chiacchiere e ti chiedo in maniera proprio laser di dirmi le tre cose che ti porterai a casa da questi due giorni che abbiamo fatto, che secondo te faranno una grandissima differenza. Allora Antonino, so che ce ne sono tante, ma dimmene tre proprio che ti vengono in mente. Vabbè, intanto dici per chi lavori, cosa fai, bla bla bla, solita presentazione. Allora, io sono un commerciale di incarichi online, ho iniziato a collaborare. Sei un commerciale o sei il commerciale? Un commerciale perché siamo... Uno o il? C'è la differenza? Il commerciale. Però no, perché lo dico principalmente perché poi noi in azienda siamo un po' come una famiglia, cioè quindi alla fine sì, sono il commerciale, però comunque siamo sempre un gruppo, quindi ci muoviamo sempre in sintonia. Ok, ok. Fa sempre, comunque, felicità un po' anche sentirsi parte in un gruppo, anche come qua all'evento, sinceramente, che è una prima cosa che mi sto portando comunque, perché come è molto importante anche l'apertura mentale a conoscere altre persone. Ok. Cioè come ho visto qua in sala, la prima è sicuramente questa. Ok. L'apertura mentale anche a conoscere altre persone, sicuramente da qui anche al voler conoscere e aprire i propri orizzonti. Ci sono tanti business, ci sono tante aziende, tanti settori, quindi sicuramente la prima cosa sarà questa. Poi la seconda è anche avere un po' la concezione di mettersi dall'altra parte, perché noi quando vogliamo intraprendere un percorso, tipo io ad esempio, il mio scopo è vendere qualcosa o comunque aiutare le persone anche a mettersi dall'altra parte, capire cosa sto per fare per quella persona e l'altra persona, cosa si aspetta da me quando io gli propongo. Facciamo un applauso perché questa è la cosa più importante, questa è proprio la chiave, mettersi al posto dell'altro. Bravissimo, bravissimo. Poi? Ma la terza sinceramente mi verrebbe un po' più coblesse, però sicuramente anche il seguire di più anche me stesso. Cioè adesso so che comunque ci sono tanti aspetti da approfondire e quindi quando si ha un'idea, la prima cosa da fare è buttarla giù sopra un pezzo di carta da qualsiasi parte, cioè anche scriverla per terra. E farla. Ok. Fai finta di avere dall'altra parte mille persone che vogliono partecipare alla Series Mastery. Cosa gli diresti? Ma lo stavo cercando, stavo cercando di pensarlo dal posto. A fine direi sempre, cioè vediamo un attimo le persone che ci sono qua dentro, guardate YouTube di Giuliano per conoscerlo meglio e terza so che farete la scelta giusta. Grande, bravissimo. Grazie Antonino, gentilissimo. Grazie. 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 Grazie a tutti.